Manca l'ufficialità ma breve palazzo di città potrebbe ricevere il sì ad un finanziamento complessivamente da 30 milioni di euro. Sembra infatti che le valutazioni tecnici del Ministero delle Infrastrutture abbiano collocato in alto nella gradatoria definitiva due progetti presentati dall'amministrazione con il programma Qualità Abitare sul quale hanno puntato molto l'assessorato allo sviluppo economico con il vice sindaco Terenziano Di Stefano e lo stesso sindaco Lucio Greco. La Giunta a febbraio aveva approvato la proposta avanzata dall'assessorato allo sviluppo economico che puntava ad un totale di 45 milioni di euro. Alla fine infatti vennero inserite anche le carte del progetto del lungomare Gela Manfria. Nelle prossime ore tutto dovrebbe essere più chiaro ma pare che il Ministero abbia approvato gli stanziamenti da 15 milioni ciascuno per due progetti. Gli assi individuati dall'assessorato, coadiuvato dalla Commissione Sviluppo Economico e da professionisti toccano la riqualificazione di aree urbane considerate da rilanciare. Il primo progetto si estende su aree che da sette farine passano per il mercato orto frutticolo di Giardinelli, lo stadio Presti e l'ex calo ferroviario che è un importante sito archeologico e dovrebbe essere destinato a diventare un centro culturale. Il secondo punta alla riqualificazione di una vasta zona sul lungomare Federico II di Svevia dall'orto Pasqualello fino a via Vasile spingendosi all'orto Fontanelle e magazzini in passato usati dai pescatori e a strutture che sono state a disposizione di ordini ecclesiastici. Si prevede tra le altre opere un museo di arte contemporanea da realizzare in questo quadrante. Si ipotizzò di lavorare inoltre su orto Pasqualello da convertire in giardino botanico, idea sostenuta soprattutto dai grillini. Non sembrerebbe invece finanziato il lungomare Gela Manfria anche se occorre ancora un'indicazione ufficiale dal Ministero. In quest'ultimo caso ci sarebbe l'intenzione di provare con altre linee di finanziamento. I 30 milioni in totale sarebbero uno sbocco essenziale per nuovi cantieri pubblici.